noi di ieri è sicuramente un momento bello importante perché i ricordi che riaffiorano sono i ricordi di un pezzo della nostra storia sì certamente sono ricordi della nostra storia ecco perché come responsabile della di questa pagina di noi su buco stage ho deciso con altri amici di far fare ho proposto questa questa mostra fotografica di cui è stato un po faticoso perché abbiamo dovuto parlare con famiglia e famiglia proprio porta a porta come si dice per avere le foto stamparle ingrandirle e metterle sul sui tabelloni ecco aggiungiamo che voi siete alla seconda iniziativa e questa la prima iniziativa ha avuto veramente grande successo e grande partecipazione continuata ad andare avanti sì abbiamo fatto nel mese di agosto la prima la prima mostra di cui adesso abbiamo riproposto la seconda perché abbiamo visto che era andata molto bene tanti 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 sono stati tedeschi arrivati con le navi quindi anche il popolo di crotone si è avvicinato a questi eventi a questo evento insomma diciamo che in realtà raccontare un pezzo di storia significa coinvolgere le famiglie coinvolgere tutte quelle persone che vivono ormai lontani dalla nostra città ma che nel centro storico hanno vissuto momenti veramente belli sì queste persone sono tutte nel centro storico ho avuto foto di persone che sono a torino a milano e mi hanno me li hanno mandato tramite mail e quindi ho potuto recuperare questo queste foto e farle e portarle alla alla mostra questa iniziativa riguarda noi di ieri ecco chi sono i noi di ieri abbiamo voluto e grazie all'intuizione del fondatore del gruppo il maestro pino perri scrittore in vernacolo artista scultore scultore insomma così grazie a lui abbiamo fatto questo revival proprio un percorso storico andare diciamo così a vedere tutti quei ragazzi che dal dopoguerra fino agli anni sessanta si sono succeduti e quindi abbiamo una mostra fotografica delle persone come erano vestiti che è già indice di una certa cultura e poi soprattutto quei volti di una volta ma la bontà di questo gruppo è quello di aver fatto incontrare persone che erano in sostanza sparsi un po in tutta italia e attraverso lo strumento formidabile quello di facebook li abbiamo messi in contatto fra di loro ricordando personaggi del tempo ricordi particolari giochi che si facevano ecco tutta quella cultura è stata diciamo così messa un'altra volta in vista